Ancora una volta l'arte entra in banca, entra in diverse forme. Oggi concludiamo la mostra dei quadri parlanti che è stata una bellissima iniziativa e lo facciamo anche in maniera diversa, non vi svelo nulla. Tanti progetti che continueremo a seguire per dare un valore aggiunto al nostro territorio. Un ringraziamento particolare alla banca, Popolare Puglia Basilicata, per aver creduto in questo progetto, una produzione tutta pugliese, anche cinema e mat, nel realizzare un musical in Puglia, non accadeva da 30 anni. È una produzione che nasce a Bari, ha l'intento di girare la Puglia e poi di partire per un tour nazionale. Grazie per la visione!